Ben ritrovati nel mio canale. Oggi parlerò un po', diciamo farò un discorso sulla rasatura tradizionale, laddove mi è venuta questa passione e come ho fatto diciamo ad appassionarmi in questo modo. Quindi oggi non proporrò video né per rasatura testa e né per rasatura video. Parlerò soltanto e spiegherò un po' dove è nata questa passione per la rasatura tradizionale che mi ha fatto conoscere tantissime brave persone, belle persone e questo splendido mondo diciamo di amicizia e fratellanza così. Allora praticamente ritornando indietro molto indietro io utilizzavo sempre multilama e bomboletta spray. Dopodiché c'è stato un momento che ho voluto provare a farla come mio padre che usava il mercur 15c mi pare o comunque un modello in più cioè più avanti. Quello che ho utilizzato io per prima volta è stato il mercur 15c con bomboletta spray. Logicamente andavo, non facevo tutta la procedura che faccio adesso, facevi diciamo in modo tale che la schiuma diventasse bella densa più o meno, te la spalmavi con la mano sul viso e andavi. Io ovviamente ho voluto copiare mio padre e mio padre di solito parte sempre facendo così col contropelo diretto. Un casino perché con la schiuma da barba non è cosa, essendo che comunque non monta o comunque non contiene acqua, appena gli vai a mettere un po' d'acqua si smonta subito e viene fuori un casino. Quindi ho lasciato perdere, l'ho accantonato il mercur 15c, l'ho accantonato e ho continuato col multilama. Poi circa settembre, agosto settembre più o meno, 2018, ho visto un video su YouTube, adesso non ricordo di chi, e da lì ho iniziato a seguirlo, ho iniziato ad appassionarmi di nuovo, ho voluto riprovare comprando diciamo quello che trovavo nei supermercati, tipo il rauso verde, bianca, rossa, wilkinson, comunque bene o male le cose che riuscivo a trovare in giro. Poi ho detto ma vediamo di trovare qualcosa di più, ho cercato su internet, ho avuto diciamo dei siti dove comprare per avere più fragranze, più vasta gamma di prodotti, e ho iniziato un po' così, poi ho iniziato ad appassionarmi sempre di più, ho iniziato a prendere vari tipi di rasoi, al quale di E ne ho 4 o 5, no, forse 6, 6, 7 più o meno, di vario tipo, un regolabile che è Gillette Adjustable, che è praticamente quello che lo apri da sotto a farfalla così, e poi nella parte sopra quando è aperto lo regoli e lo chiudi. Poi ho anche Gillette Slim Twist, Wilkinson Classic plasticone, ovvero quello nero, e poi ho anche la versione di adesso in metallo, poi ho il rasorin, dopodiché come di E mi sembra basta. Ah no, dimenticavo, l'ultimo che avevo comprato prima della fine di quest'anno, il Ballet, un single age, che a me mancava, quindi l'ho voluto provare, dopodiché ho Mano Libera, Mano Libera ne ho 3 barra 4, perché il quarto è il Gold Dollar, che ancora dovrò capire bene come impostare tutto e come affilarlo per farlo funzionare bene e provarlo. Poi, come si dice, a livello di prebarba, sapone e aftershave ne ho un po', non in quantità enorme, ma comunque un po' di scelta per... e infatti adesso sto facendo una selezione in questo periodo per capire cosa è meglio per il Mano Libera e cosa no. E ovviamente in base anche al momento della mia pelle, come se è stressata o meno, vado a mettere un sapone più protettivo rispetto magari un'altra volta. Poi, come si dice, anche la mia fidanzata, la mia futura moglie, si sta appassionando su questo, infatti la vorrei portare a utilizzare il Wilkinson Classic per depilarsi. Infatti lei ha utilizzato il prebarba rosso e si è trovata da Dio, quindi ho voluto, diciamo, buttargliela lì e provare con il Wilkinson, in modo tale che almeno il consumo di plastica, io anche per quello adoro questa rasatura tradizionale, perché comunque c'è pochissimo consumo di plastica, il minimo, l'incarto se fosse fatto di plastica o cartoncino per le lamette e basta. Mentre con il multilama c'hai il rasoio che è interamente in plastica, nel mio caso, quello che uso per la testa, che poi volevo prenderne uno dall'America che avevo visto, ne volevo prendere uno più avanti, che potevi scegliere con tre lamette singole e scegliere tu dove metterlo per farlo meno o più aggressivo, in modo tale da non consumare proprio plastica a zero, perché comunque è uno spreco e non ha senso. Poi anche il bello di questa rasatura tradizionale, i ricordi dei nonni, di tuo padre, comunque le persone che hai visto quando si radono, che ti hanno cresciuto, io ho visto sempre mio padre col pennello e queste cose qua, quindi è bello. Poi mio padre mi aveva, diciamo, passato un rasoio che purtroppo è anonimo perché non c'ha né sigle né niente, ma lo usava mio nonno, quindi è anche bello per quello, perché comunque sono cose che ti rimangono poi, o comunque tu puoi passare a un eventuale figlio o nipote o così. Io ho fatto i miei nipoti, sto cercando di farli, anche che sono ancora piccoli per questo, però piano piano sto cercando di farli appassionare anche a loro, infatti molti dei video che faccio loro li guardano e gli piacciono e poi ho fatto vedere proprio loro anche dal vivo come mi rado tutta la procedura e tra l'altro ho fatto partecipare tempo fa, quando ero ancora nella casa vecchia dei miei genitori che adesso qui sono in affitto, mia nipote, con la messa della schiuma, insomma l'ho fatta diventare una piccola barbierezza, e quindi lei molto contenta, ci è rimasta diciamo stupita, una cosa nuova, si è divertita un sacco perché comunque è una novità che non aveva mai fatto, una cosa bella, insomma ho interagito un po' così, perché comunque questo mondo è bello anche per quello che ti fa interagire con chi vuoi in maniera diciamo bella, infatti per questo che mi piace questo mondo, poi comunque conosci veramente tante persone, cioè tante persone che parlano della tua stessa passione, quindi hai sempre comunque un riscontro, puoi sempre migliorarti, perché infatti da quando mi rado in questo modo sono migliorato tantissimo, sia nell'utilizzo di DE vado anche a selezionare bene o male delle lamette in base al momento, che però per quanto riguarda la mia pelle ci sono alcune lamette che proprio non c'è storia, poi ovviamente anche qua è soggettiva la cosa, cioè il bello di questo mondo che è tutto soggettivo, invece nel mondo diciamo che fanno vedere loro adesso, che hanno anche i supermercati, il classico bomboletta e multilama, lì sì, puoi scegliere la marca della bomboletta, ma l'irritazione o comunque il taglio se c'è, c'è, in entrambi i casi, sia che tu scegli la rasatura tradizionale, sia che tu scegli meddoto bomboletta e multilama, ce l'hai, è quasi impossibile che non ce l'hai, perché comunque la pelle, ognuno di noi ha una pelle diversa, poi i saponi che ho io, adesso li sto testando tutti, per quanto riguarda il cuoio cappelluto non ho avuto problemi con nessun tipo, perché è diverso, col viso io, come si dice qua nelle guance, ho già dei puntini, dei puntini, io le ho già così, già di mio, quindi molte volte possono essere scambiati per irritazioni o post rasature messe male, ma in realtà non è così perché le ho già, io adesso per dire ho la barba di, oggi è giovedì, ho la barba di due giorni, che l'ho fatta martedì, eppure si vedono ancora i puntini, e quindi è questo, però a grandi linee, io da quando ho preso questo cammino con la rasatura tradizionale, non ho avuto problemi, o comunque il minimo all'inizio, perché comunque vai a fare una rasatura diversa, tipo io la prima volta che ho usato il mano libera, mi sono conciato il viso da fare paura, perché il mano libera era stato affilato da una coltelleria, magari non era affilato bene, magari ho sbagliato io le prime scorramellate, insomma un po' di cose, che poi col tempo impari, la pelle non era pronta, perché comunque il taglio è stato molto profondo, perché il mano libera ha un taglio molto profondo, però è meno pericoloso dello chavette, il cosiddetto finto mano libera, però quella lametta da barba, quello è pericoloso davvero, perché se sbagli, non te ne accorgi, lì ti entra, proprio nella carne, ti entra dentro, invece il mano libera è già più facile da manovrare, perché hai il peso della lama, ed è molto difficile che ti fai male, ovvio ci vuole sempre attenzione, perché comunque è una lama fissa, e ci vuole sempre attenzione, quello non lo metto in dubbio, però è più facile utilizzarlo, e infatti io adesso ultimamente mi sto appassionando veramente tanto al mano libera, da che lo sto usando molto, adesso sto usando un 6 ottavi per il momento, però più di 6 ottavi, penso che al massimo mi potrò spingere a un 7, non oltre, perché non, purtroppo qua, queste zone qui sotto il collo, io ho la barba in questo, in questo modo, che va così, va verso così, e qua mi fa una rosa, e quindi col mano libera, se più grosso è, più fai fatica a fare la barba in alcune zone che sono critiche, qua, in questa zona qui, io non ho problemi, qua sotto, qualche problema ce l'ho, perché mi cresce un po' alla cavolo, essendo che comunque ho la barba mossa, una volta avevo anche i capelli che andavano tutti mossi, invece adesso ormai stanno tutti belli lisci, questi capelli, e quindi questa, più che altro questo, è un video un po', diciamo, a cui spiego la motivazione della mia passione, verso questa rasatura tradizionale, così, quindi, se avete, diciamo, domande, o comunque volete chiedermi qualcos'altro, potete commentare, condividere questo video, far, diciamo, evolvere questa passione, e mettere un like, o più di uno, che non farebbe male, e, se avete, qualsiasi domanda, scrivete, io risponderò, e ora vi saluto, perché, detto questo, penso sia stato abbastanza chiaro il concetto, anche perché, più di queste cose qui che dovevo dire, non è che c'è molto, anche perché, da buono appassionato, altro appassionato, queste parole, penso che le capiscano, quindi, detto questo, io vi saluto, è stato un piacere fare questo video, diverso da tutti gli altri, di rasatura, diviso e pelata, quindi, è stato molto bello fare questo video spiegativo, di queste cose, della mia passione, perciò, io ora vi saluto, e noi ci, ci aspettiamo, al prossimo video, ciao ragazzi!